Giù il sipario sul Festival della Disperazione, il festival più originale della provincia Barletta, Andrea Trani e non solo al centro di questa Kermes, che è soprattutto letteraria, il sentimento diffuso e intenso della disperazione. Il servizio. Il Festival della Disperazione è piaciuto tanto, tanti gli spunti, tante le belle idee espresse in questi 18 eventi in tre giorni di Kermes, dedicati al più antico e letterario dei sentimenti, appunto la disperazione. Incontri con autori, letture, mostre, workshop, esibizioni musicali, tutti dedicati all'inquietante, stralunato, ironico mondo della disperazione. Ad aprire la mostra fotoromanzo italiano, alla presenza degli ideatori Giorgio Barrere e Andrea Botto. In mostra l'opera Quei giorni del diluvio, l'evento catastrofico del 4 novembre 1966. Un racconto per immagini che modifica il pensiero dell'alluvione da momento traumatico a occasione di rivitalizzazione. Noi lavoriamo sul creare un nuovo immaginario parlando dell'Italia contemporanea, costume, politica, gossip, cercando che noi abbiamo definito il nostro lavoro un po' come neorealitismo o neoreality, oppure come una forma di kitsch consapevole. Il fotoromanzo insisterisce in un progetto di ricerca che come vi dicevo si chiama Off the Archive e chiama in causa l'utilizzo e la riflessione sull'archivio di immagini per portare, per riattivare i contenuti dell'archivio stesso e quindi, come dire, cercare di riattualizzare il passato interno all'archivio con concept e punti di vista contemporanei. In questo percorso, insomma, gli artisti, i collettivi artistici come quello di Fotoromanzo Italiano, giocano un ruolo importante perché arricchiscono il contenuto storico di una nuova interpretazione che ha a che fare col presente. Esilarante poi l'esibizione di Armando Cavazzoni, evento sold out fin da subito. Sceneggiatore e scrittore italiano, Armando Cavazzoni ha collaborato con Federico Fellini al suo ultimo film La Voce della Luna, ispirato dal romanzo Il poema dei lunatici di Cavazzoni stesso. Insegna poetica e retorica all'Università di Bologna, dove ricercatore confermato Cavazzoni ha intrattenuto il pubblico con la breve storia della disperazione. Mi è piaciuto molto l'idea del festival della disperazione perché, contrario a tutti i festival che esistono, in genere i festival sono su cose positive, allegre, fattive, come oggi funzionano. Invece il festival della disperazione fa un po' ridere, devo dire la verità, ed è questo il suo bello. Sarebbe come dire il festival della depressione, il festival delle lacrime, sarebbero tutte cose comiche nonostante che l'argomento sia disperante. La disperazione è una cosa che un po' si è persa, secondo me, nel tempo moderno, grazie, forse per fortuna, ma è anche un po' un guaio con gli psicofarmaci, la medicalizzazione di tutti gli stati d'animo negativi. Un tempo, nell'antichità, la disperazione invece era uno stato molto più clamoroso e le opere letterarie la usano molto. La disperazione era molto, come dire, in voga anche nell'antica Roma, ma anche prima ancora nell'Egitto antico. Ci sono dei testi sopravvissuti dell'Egitto antico dove ci si dispera, testi brevi, e quindi è un sentimento che accompagna l'umanità. Chissà se gli animali ce l'hanno l'analogo, forse un po' sì.